dicevo all'inizio che noi siamo oggettivamente ma non soggettivamente mediterranei beh c'è una dimostrazione se vogliamo strategico istituzionale di questa tesi e cioè la nostra appartenenza quali soci fondatori di una più grande alleanza strategico militare della storia contemporanea la cosiddetta organizzazione del patto del nord atlantico fondato nell'aprile del 1949 a washington beh di quel gruppo di paesi paesi dell'europa occidentale guidati dagli stati uniti d'america stravincitori a differenza degli europei della guerra mondiale appunto beh l'italia era l'unico paese che con l'atlantico sotto il profilo geografico non aveva nulla a che vedere ed è anche se vogliamo la dimostrazione di una certa flessibilità della nostra geopolitica cioè della capacità nelle fasi più critiche di capire a quale parte appartenere e di rifuggire dalla tentazione dell'universalismo del neutralismo dell'essere amici di tutti che forse deriva anche dalla nostra anzi certamente dalla nostra cultura cattolica deriva dall'influenza della chiesa deriva quindi dalla necessità di essere universalisti aperti cosmopoliti che va benissimo ma che appunto incontra necessariamente nella realtà geopolitica e nelle scelte strategiche dei limiti invalicabili forse questo ci ha abituato qualche volta a pensare di poter mettere d'accordo il diavolo e l'acqua santa l'acqua il fuoco esercizi improbabili che magari ci riportano alle accuse di ricorso al cosiddetto italian trick per esempio quando arrivano i cinesi come è accaduto qualche tempo fa in questo paese di poter essere contemporaneamente filo cinesi e fare gli accordi commerciali con loro e filo americani e mantenerci sotto l'ombrello strategico americano ovviamente queste cose sono difficilmente compatibili difficilmente comprensibili anche per eventualmente cinesi americani ma fa parte di una flessibilità che in qualche caso noi eccediamo portiamo ai limiti estremi e quindi rendiamo meno efficiente l'atlantismo di un paese mediterraneo credo che sia un capolavoro mai riuscito ad alcuno nella storia contemporanea